Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino oggi siamo qui per sfatare un mito, cioè che tra Cremone e Piacenza ci sia grande rivalità, no non è vero, sapete che storicamente ci sono queste dicerie varie ed eventuali, insomma, Cremonesi e Piacentini sembra che non si possano vedere tipo cane e gatto, ebbene sfatiamo un po' questo mito. Lo sfatiamo perché voglio presentarvi un'opera particolare, da prima parte di una trilogia, io l'ho ricevuta a Grazzano Visconti, si chiama Epica, la strega del serpente, volume 1, l'iniziazione. È un volume molto molto particolare perché è un volume figlio del proprio territorio, quindi il territorio piacentino, con la sua storicità, con le sue miti, i suoi leggendi, le sue mezze verità e le sue invasioni, chiamiamola così. Ed è un qualcosa di molto particolare perché ti fa entrare in un mondo magico, ma anche dannatamente realistico, se ci vogliamo credere, proprio perché si va a parlare di storicità di un territorio, un territorio che, e qua parto un po' dalla fine, che ti permette anche di essere visto e studiato in maniera scientifica, proprio perché in fondo al volume abbiamo delle approfondimenti di Silvia Fogliazza e di Gloria Bolzoni, che sono studiosi, rappresentati nel Museo di Archeologia della Valtidone, insomma persone che sanno storicamente di che cosa si parla. Ecco, queste persone mettono il loro sapere, la loro scienza, la loro conoscenza nel contestualizzare la storia che stiamo leggendo, una storia che poi è nata e sviluppata attraverso un po' la mitologia e la magia, ma andiamo con rigoroso disordine. Quindi sono partito dalla fine, o meglio da un pezzo della fine, per farvi capire che comunque il lavoro che c'è dietro questo volume, questa epica, non è un lavoro solo di, solo tra virgolette, scriviamo e raccontiamo una storia. No, ma è scriviamo e raccontiamo una storia, partendo da un territorio, da una storicità, di quel territorio, da particolarità, che poi portano a poter essere romanzate e fumettate per arrivare a diventare questo. Magari sarebbe carino dirvi chi ha lavorato a questo progetto. Beh, innanzitutto partiamo dal disegnatore, nonché il creatore del personaggio, ovvero Nicola Genzianella. Nicola Genzianella è famoso perché per i suoi lavori in Bonelli e, guarda caso, uno dei personaggi con cui ha lavorato di più è proprio Dampier. Dampier, grazie a Mauro Moselli, è proprio un po' una sorta di scuola per questo tipo di cose. Forse anche più di Martin, per certi versi. Quindi alla fine dell'opera ci sta che, provenendo da quel background, si è riuscito a costruire qualcosa di questo genere. Io credo che Nicola Genzianella sia pronto per scrivere proprio anche lui stesso un'intera graphic novel tutta sua. Comunque, al di là di tutto, ha creato e ha disegnato, poi vediamo come, questa graphic novel. Poi abbiamo ideazioni di storia di background da Gloria Bolzoni, Silvia Fogazza, Pietro Gandolfi, Emanuele Soressi e Silvia Trebbi. Silvia Trebbi la prendiamo e la mettiamo anche un attimo da parte, poi vi spiego peggio. La sceneggiatura di Pietro Gandolfi, The Noise, la Median Comics, insomma ragazzi, c'è poco da dire. Il nostro Pietro è uno che ne sa, che ha già scritto tanto, che è capace di fare questo lavoro di narratore in maniera veramente ottimale e di fatti si vede il suo background. Serviva un professionista grande e l'hanno trovato Pietro Gandolfi. E' colui che ha sceneggiato il tutto. I disegni l'ho già letto, sempre Nicola Genzianella. Perché ho messo da parte Silvia Trebbi? Perché Silvia, per chi se non se la ricorda l'ho intervistata per due anni di fila a Grazzano, è proprio colei sulla quale è stata basata la fisicità di Epica. Lei è il personaggio principale. E' con lei, lei è la versione 3D, è nata prima lei a momenti, del personaggio stesso. Quindi quando vedete qui dentro Epica che si muove, lei che va ad affrontare questo... come posso dire, che va ad affrontare questa iniziazione, con in mano il suo bastone, ebbene, è lei, punto. Quindi vi invito ad andare a rivedere perché fa un certo effetto sapere di poter realmente incontrare un personaggio di un fumetto. Perché davvero lei è Epica. Ma vediamo un po' adesso di parlare del fumetto vero e proprio. Il fumetto vero e proprio è Pietro Gandolfi, che ci porta all'interno di un rito, un rito di iniziazione, un rito di passaggio, un rito lisergico, di quelli che mischiano sangue, morte, vita, tutto in un unico grande cerchio, e cerchiamo di capire che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa si è indotto come allucinazione e cosa no di questa ragazza che deve cambiare vestito. Proprio il cambio di vestito è come un cambio di paradigma della sua vita. Questo rito di passaggio con questi tamburi, con questo liquido, con questi mostri, con questa lotta. E noi arriviamo lì a cercare di capire che cosa è successo e perché qualcuno doveva manipolare la vittoria. Perché comunque questa visione porta a una lotta. Il modo, la trasformazione della nostra eroina sarà particolare, perché passerà attraverso proprio tutto questo rito. Quindi noi in queste pagine vivremo con lei il rito sia inteso come inizio, sia inteso come fine, in cui proprio lei finirà questo rito in un certo modo, che lascia aperto un sacco di punti di domanda. E lo vedremo molto bene, intanto vedremo anche cosa succede intorno a questo rito. Quindi poche pagine, non tantissime, ma davvero molto molto pregne, davvero molto molto interessate. Quindi a livello di storia, è una storia che ti prende, che quando è chiusa dici, cacchio, ma io voglio sapere come va avanti. Perché ti c'è affezione, ti ci incuriosisce, non vedi l'ora di portarla fuori. I disegni di Nicola Genzianella sono disegni particolari, perché sono disegni graffiati. Sono disegni belli, ma che sono un po' diversi da quelli che normalmente Genzianella, mi ricordo, fa. È un qualcosa quasi più sperimentale, quasi più che deve dare un senso di completo, ma incompleto allo stesso tempo. Qualcosa di etereo, di folle, ma assolutamente regolare. Nei cambi di tempo, i cambi di tinta, questi segni molto netti, ma anche molto etereo allo stesso identico tempo. È qualcosa di veramente bello. Capisco benissimo che questo tipo di disegno non poteva assolutamente, non può assolutamente andare in una produzione massiva stile Bonelli, ma proprio in virtù di questa non possibilità capisco che l'utilizzo qui è l'utilizzo migliore. Le tavole sono veramente belle. Io non ho molto altro da dire. Sicuramente c'è un lavoro di, non voglio dire minimizzazione, non saprei come, riduzione ma senza sottrazione, non saprei come dirlo meglio o peggio. Davvero vi invito ad andare a sfogliarle e a guardarle, perché ragazzi è tanta tanta roba. Chiude poi il volume, oltre alla parte che vi ho detto all'inizio di storiografica, abbiamo una galleria di studi di Genzianella molto interessante che dà anche un buon senso del lavoro fatto e poi Pietro Gandolfi, Jack Sesenna e Marcello Gamba ci portano invece dai The Tritons, che è una sorta di piccola appendice umoristico comica per poter leggere qualcosa su questi tritoni, i tritoni che sono importanti. Per chi non sapesse invito ad andare a riprendere il mio video di Grazzano Visconti, dove intervista a Genzianella e Silvia, anzi Epica, in modo tale da poter capire un po' meglio questi tritoni. Che dire? Tanta roba ragazzi. Dove lo trovate? Lo trovate sicuramente nelle librerie di Grazzano Visconti a Piacenza, lo trovate nelle fumetterie di Piacenza, tipo la soffitta, la libreria dello studente, e probabilmente sul sito, che non ho verificato, ma dovrebbe esserci, sul sito della Ora Pro Comics di Piacenza. Val la pena? Beh, secondo me sì, val la pena perché è un prodotto particolare che unisce il concetto di territorialità, proprio di studio del territorio, a un concetto di fumetto, che comunque è di intrattenimento, ma anche di divulgazione, che ti incuriosisce, che poi alza ancora di più l'asticella, perché questo fumetto si basa su una persona che fisicamente esiste, che ha concesso, che ha dato la sua fisicità al personaggio, cioè è tutta un'interconnessione di cose che alla fine genera un'unica entità. È come Epica non è in fumetto, Epica non è Sylvia in cosplay, Epica è tutto questo messo insieme. E secondo me è proprio questo unicum che rende questo progetto veramente molto molto interessante. Sappiamo che è il primo di altri due volumi, sarà una trilogia che concluderà il tutto, o che inizierà un qualcosa, comunque sicuramente il primo arco è composto da tre volumi, il primo è questo. Ragazzi, io posso dirvi che secondo me vale la pena, vale la pena di provarci, vale la pena di andare un po' a caccia per entrare in questo mondo, in questo mondo medieval fantasy particolare, e davvero ragazzi, entrate anche voi e fate anche voi questa iniziazione. Per me vale la pena, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Baci e abbracci, ciao! Ciao!